L'idea del film da Fellinette nasce da un sogno. Una sera mi sono addormentata nella mia camera da letto guardando un disegno che mi accompagna e mi dà il buongiorno e la buonanotte. Questo disegno me l'ha fatto lo zio Federico quando ero piccola dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia di Rimini con lui in una giornata di nebbia era un 20 gennaio quindi il giorno del suo compleanno e lui fece una cosa speciale perché arrivò a Rimini con un regalo una mantellina facciamo questa bellissima passeggiata sulla spiaggia e poi tornando a casa bevendo una bella tazza di cioccolata calda preparata da mia mamma lui mi disegnò in un quadernino in un foglio a quadretti e disegnò quella che lui chiamò la Fellinette. Beh una sera a maggio dell'anno scorso addormentandomi ho davvero immaginato di poter fare uno splendido sogno per fare un omaggio allo zio Federico e così il sogno c'è stato quella notte e l'indomani mattina parlando al telefono con un bravissimo storyboarder ovvero quelli che disegnano i film prima che vengano realizzati lui ha messo su carta quello che era la mia storia la mia favola e così è nata la Fellinette scritta e diretta da me con la sua vocina dolcissima lui come se fosse una bellissima filastrocca mi diceva delle cose che per me arrivavano come dei suoni dei mantra cioè qualcosa che ripetuto all'infinito sono entrati poi in fondo nel mio dna e che cos'erano erano queste frasi che sono diventate le metafore di Federico Fellini nulla si sa tutto si immagina la vita è una festa viviamole insieme queste frasi poi sono diventati i semi della mia modalità di vita oggi la mia filosofia di vita si basa su queste massime dello zio Federico e mi diceva una cosa bellissima che quando lui aveva 6-7 anni lui era convinto che noi avessimo due vite ovvero la vita ad occhi aperti e la vita ad occhi chiusi diceva sempre devi continuare a guardare la vita come lo fanno i bambini perché per i bambini è sempre salire come su una giostra straordinaria e fantastica cioè la scoperta della meraviglia ogni giorno stupirsi come se fosse il primo giorno ogni volta ecco credo che questa questo suo insegnamento l'insegnamento dello zio chicco di continuare a guardare la vita con gli occhi dei bambini mi appartenga ed è uno forse degli insegnamenti più importanti che lui mi ha lasciato eppure se tutti facessimo un po' di silenzio se tutti riuscissimo a fare un po' di silenzio capiremmo qualcosa io ho pensato prendendo il testimone da questa frase di Benigni della voce di La Luna di fare una favola senza parole ovvero una favola muta sospesa tra sogno e realtà per poter arrivare a tutti dove arrivando con un'empatia di immagini di musica e di suoni si possa arrivare al cuore degli spettatori il cast di questa fellinette io penso sempre che sia magico perché è arrivato tutto per incontri arriva il mio direttore della fotografia con un incontro a Bologna la sera della proiezione dei clown nella coppia restaurata dalla Cinetica di Bologna io incontro per la prima volta uno credo delle persone che sono diventati tra i miei amici più cari Blasco Giurato conosco Blasco e gli racconto la mia favola lui credo che abbia percepito immediatamente che era una favola era una storia fatta di polvere di stelle che forse arrivava da molto lontano e non solamente dal mio racconto e da poche immagini di uno storyboard al telefonino e la prima cosa che mi ha detto in quel 28 giugno del 2019 in questo film la direzione della fotografia te la faccio io questo è il mio omaggio per Federico e poi ho voluto gli amici nel cast artistico ho chiamato gli amici che in qualche modo erano legati anche a Federico a partire da Milena Bucotice che è un'amica della famiglia e poi ho voluto Ivano Marescotti Ivano Marescotti che è il mio mago in questo circo come ho pensato io in questa mia fellinette è il mio mago e Ivano muove i primi passi nel 1985 in Ginger e Fred proprio con Federico Sergio Bustrich l'ho voluto fortissimamente perché io lo chiamo il Buster Keaton italiano cioè una persona che riesce a trasmettere emozioni con il linguaggio il body language, il linguaggio del corpo con gli occhi senza bisogno di parole perché nel mio corto oltre un mago delle ombre cinesi come Carlo Truzzi come un funnambolo come Federico Bassi è un bagnino straordinario che dispensa la neve pensate, un bagnino che dispensa la neve ci sono due creature che non potevano mancare in questa mia favola ovvero l'amico di una vita, Alfie, la mia anima gemella mi capisce senza parole e siccome è una favola muta gli ho voluto in dono regalare l'immortalità perché in questo corto la nostra storia di grande amicizia che parte da lontano resterà per sempre e c'è anche Pinocchio, il Pinocchio della voce della luna il Pinocchio dello zio Chicco che oggi mi tiene compagnia essere l'ultima erede per DNA di questa famiglia che ha avuto una matriarca così importante come è stata la nonna Ida Barbiani che insieme al nonno Urbano hanno creato questa splendida famiglia di tre figlioli Federico, Riccardo e Maddalena poi c'era anche mia cugina Rita oggi purtroppo loro non ci sono più quindi ho l'onore e l'onere di portare questo cognome nel mondo insomma sarà un bellissimo viaggio nel mondo come ambasciatrice di questo re dei sogni e per me questo DNA è davvero molto molto importante e ne sono ovviamente orgogliosa